Grazie signor Presidente, allora io vorrei far puntare l'attenzione sul fatto che in Italia questi fondi pubblici europei per lo sviluppo rurale spesso sono stati un croggiolo di truffe dove gli stessi controllori erano in accordo con chi erogava i fondi e hanno dato luogo a un clientelismo politico enorme. Come vuole la Commissione porre rimedio a questo sistema marcio che vediamo da tanti anni? Grazie. L'onorevole Moi ha fatto poi una domanda più generale, è molto difficile risponderle perché di solito noi consideriamo le procedure specifiche e nei casi specifici. Quindi mi trovo un po' in difficoltà, non posso dare una risposta generale, posso solo dire che nel momento in cui si verifica che è stata svolta una spesa irregolare da uno Stato membro, è stata provocata da una irregolarità a livello del beneficiario, si interviene, si svolge un audit, come è noto l'Olaf può svolgere delle indagini in caso di frode e a quel punto si traggono le conclusioni finanziarie. L'Italia in passato ha subito delle correzioni finanziarie ma non è la pecora nera, ci sono anche altri Stati membri, tutti gli Stati membri sostanzialmente sono stati oggetto di verifica di spese non ammissibili ai fini della PAC. Forse possiamo chiarirci in via bilaterale, non so se lei pensa in particolare a qualcosa di specifico e se su questo verteva la sua domanda potremmo chiarirlo in sede bilaterale.